Ma la notizia, francamente, ci sembra veramente incredibile. Sabato sera un giovane di 32 anni, urbano nordio, residente in Calle Iroldi, in centro a Chioggia, si è sentito male davanti ai genitori che hanno chiamato immediatamente il 118. Purtroppo però il personale sanitario, pur prodigandosi per oltre mezz'ora, con le varie manovre di rianimazione, non è riuscito a salvarlo. Umberto Nordio era un operatore di Veritas, i colleghi lo descrivono come un lavoratore professionale, un giovane senza grilli per la testa, che non beveva e non fumava, e che oltre a lavorare come operatore ecologico effettuava sporadicamente consegna con globo. Anche un 52enne Diego Veronese ha perso la vita mercoledì scorso per cause naturali nella sua abitazione, sembra per un infarto fulminate, i funerali si sono svolti sabato nella chiesa di Sant'Andrea.